A guardarla così, insomma, dice, è un avviso pubblico per manifestazione di interesse, manutenzione e viabilità anno 2016 per il rifacimento della pavimentazione stradale tratto Viale Vittorio Veneto. C'è il prezzo, tutto quanto, strato, strade, ponti, c'è sta tutto qua. Entro le ore 12 del giorno 27 marzo 2017 bisogna manifestare questo interesse a partecipare. Poi c'è il sorteggio, il 28 marzo alle ore 10. Ci sono tutti i requisiti, qui debbono corrispondere coloro che partecipano, informazioni, una cosa e un'altra. Quello che è strano è che, guardate un po', venga pubblicata sull'albo pretorio il... Sti giorni, siamo ad agosto, siamo precisamente al 28 agosto. Ora, sarà stata pubblicata qualche giorno più, qualche giorno meno. Eh, però, io oggi la vedo. Ma come mai? Ma come mai? Ma, misteri gloriosi!